Buongiorno a tutti, volevo spiegare perché siamo venuti a Roma, io e Emanuele, ma non sono né Stefano Puzzer né Emanuele che siamo qui a Roma, ma noi siamo venuti qui per far vedere che siamo persone normali, che abbiamo dei diritti, abbiamo un massimo rispetto dei cittadini di Roma, un massimo rispetto di tutti, noi non siamo venuti qui a fare i protagonisti, siamo venuti qui perché è giusto che le persone si incontrino, che si sfoghino in questa bellissima piazza, in questa bellissima città, ed è giusto che mandiamo pacificamente il nostro segnale e speriamo veramente che il governo senta questo nostro segnale e che venga incontro a tutte le persone discriminate, alle persone discriminate, agli insegnanti che non possono svolgere la propria mansione, ma sono chiusi negli sgabuzzini, ai sanitari che devono stare a casa a fine 31 dicembre, agli over 50 che devono adesso ingiustamente pagare una sanzione, ma verrà fuori un modulo per fare il ricorso, e a tutte le persone discriminate che adesso sono senza dignità perché non riescono a portare neanche il pane a casa. Noi come vedete facciamo parte del comitato, stiamo tentando di dare una mano a tutti, adesso siamo qui in piazza del popolo, deve essere un pellegrinaggio, non nessun tipo di manifestazione, noi siamo seduti tranquillamente su una panchina, io e Emanuele e tanti cittadini, stiamo chiacchierando, ognuno si racconta i suoi problemi, dopodiché io domani ho saputo da avvocato che devo andare a Trieste, perché come sapete il mio sogno è ritornare a lavorare da uomo libero senza dover mostrare un Green Pass, sono a casa d'ottobre, e quindi dopo le contestazioni io devo domani avere questo incontro insieme al mio avvocato e all'azienda, spero che tutto vada bene perché io ci tengo nel lavoro e mi ripeto, io voglio tornare a lavorare perché io amo i miei colleghi, amo i miei fratelli portuali, amo il mio lavoro, amo la mia città, non ho nessun interesse politico, di visibilità o altro. Quindi qui rimarrà Emanuele, ci sarà Ivan della Marcia e di Paolo Sceusa e poi io ritornerò appena possibile. Quindi se volete passare a farci un saluto, fare una chiacchierata, noi siamo qui tranquillamente, però non abbiamo nessuna intenzione di fare nessun tipo di manifestazione. Siamo solo venuti qui perché quel piccolo sassolino che avevamo detto della giustizia, che è arrivato grazie al Tribunale del Tar e grazie anche perché io mi ricordo sempre quei giorni 2 novembre quando le forze dell'ordine mi hanno dato il foglio di via, l'ho sempre detto dall'inizio, sono stato trattato benissimo, non ho avuto nessun problema, ma è giusto che ognuno faccia il suo lavoro. Dopodiché vi voglio dire che vi voglio bene e che chiunque sarà qui in Piazza del Popolo non ci devono essere personalismi di nessun tipo. Io sono Stefano Puzzer, Emanuele e Emanuele, Mario e Mario, Claudio e Claudio, Sabrina e Sabrina, Monica e Monica. Noi siamo umani e questo dobbiamo dimostrarlo, con rispetto sempre delle regole. Quindi un bacione a tutti, vi voglio bene. Ciao!